Quando faremo i sedi per 5 minuti, ma io ero il pastile e ora non vogliamo... Scuseremo ad aspettare i genitori che arriveranno tra un po' di vivi e poi stanno le 10. E' un applauso. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 Gero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.